Luca Giuseppe Revisore Luca Giuseppe Revisore Luca Giuseppe Revisore Buonasera a tutti. Mi è stato chiesto di svolgere nei minuti che ho a disposizione una riflessione ovviamente breve su un documento di cui si parla a distanza di oltre un anno ancora, molto intensamente, in tutto il mondo. Il riferimento è alla lettera enciclica di Papa Francesco Laudato Si. È un'enciclica che sta facendo parlare tutti, soprattutto i non credenti, quindi non c'entra niente la dimensione religiosa in questo caso. La domanda diventa perché? Perché la questione ecologico-ambientale è oggi veramente al centro delle attenzioni e soprattutto delle preoccupazioni. Quali sono allora le tesi che è possibile estrarre da quel documento e che mai come in questo momento storico ricevono attenzioni crescenti. Ricordo che il mese prossimo a Marrakesh, in Marocco, si terrà la 22esima, la COP 22, cioè la conferenza delle parti 22esima, fa seguito a quella dell'anno scorso a Parigi. Ed è molto probabile che il mese prossimo alcune scelte, o meglio, mi correggo, decisioni importanti, verranno presa alla luce anche di quel documento. Ebbene, le tesi che è possibile estrarre da quel documento, che è un po' lungo, a volte un po', come dire, bolso, come qualcuno ha messo in evidenza, sono tre. La prima è che questione ambientale e questione sociale sono come le due facce della stessa medaglia. Dunque, non è possibile né pensabile pensare di risolvere l'una se contemporaneamente non si risolve l'altra. Qualcuno dirà, dov'è la novità? Eh, la novità è che è la prima volta nella storia contemporanea che si afferma una cosa del genere. Fino ad ora avevamo da una parte gli ecologisti estremi e dall'altra gli antropocentristi, i primi coltivavano l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente, a costo anche di far morire di fame la gente. Gli altri, gli antropocentristi invece, mettono al centro l'antropo sull'uomo e quindi, pur di portare fuori dalla fame milioni e milioni di esseri umani disposti ad accettare distruzioni ambientali di vario tipo, deforestazioni e così via. Ebbene, questo documento dice che le due questioni sono una il duale dell'altro, come appunto le due facce della stessa medaglia. Voi capite che da qui c'è una implicazione grossa, che non si può pensare di salvaguardare l'ambiente se in maniera seria non si affronti il tema della lotta alla fame e più in generale alla lotta alle diseguaglianze sociali che sono diverse dalla fame, ma sono, come dire, cugine molto vicine. La seconda tesi è quella che dice sostanzialmente che l'ecologia, l'ambiente è un bene comune globale. Qualcuno dirà, ma dov'è la novità? Perché finora nella letteratura, a cominciare dagli economisti, anzi per colpa degli economisti, si è sempre sostenuto che quello ambientale fosse assimilabile ad una particolare categoria di bene privato. e in quanto tale bastava affidarsi ai meccanismi di mercato per vedere la soluzione. Abbiamo visto quello che è successo. Mai come negli ultimi 25 anni abbiamo registrato un degrado ambientale. Chi conosce un po' di economia lo sa, perché il meccanismo di mercato ovviamente risolve il problema dell'efficienza, ma non certo quello della sostenibilità, soprattutto perché non esistono mercati futuri. I mercati sono soltanto del passato e contemporanei, non esiste il mercato futuro. Quindi ecco perché il mercato non è in grado di dare prezzi per tenere conto dei costi associati al degrado ambientale. Sulla spanda opposta ci sono quelli che dicono quello ambientale è un bene pubblico e in quanto bene pubblico deve essere affidato agli stati o qualcosa del genere. pure abbiamo visto il fallimento, perché a livello mondiale si sono contati circa 130 trattati internazionali che vengono sistematicamente elusi. Pensate al protocollo di Chioto, firmato, ma non ratificato dai diversi. Alcuni governi l'hanno fatto, ma dalla maggior parte no. Dire che allora quello ambientale è un bene comune globale vuol dire che occorre trovare una regola di governance adeguata alla natura di un bene comune che non è né bene privato né bene pubblico. E su questo fronte siamo molto indietro. Perché la teoria economica non ha prodotto se non timidamente alcuni risultati negli ultimissimi anni. Ed è interessante che la prima a sollevare la questione sia stata una donna, Elinor Ostrom, che però non era economista. Dico era perché purtroppo è scomparsa pochi anni fa dopo aver acquisito il premio Nobel dell'economia nel 2009. Lei che era scienziata politica. Lei ha avuto il coraggio di dire il governo dei beni comuni come l'ambiente deve rispondere a regole diverse da quelle usuali. Infine la terza, direi, tesi che emerge dal documento è la biodiversità economica. E anche questo è un punto di grande novità. Noi siamo abituati a declinare la biodiversità nel mondo animale e vegetale, e tutti sappiamo. Ma questo vale anche per il mondo economico. Cosa vuol dire biodiversità economica? Che nell'arena del mercato devono poter operare fianco a fianco tipi diversi di imprese. Senza che l'assetto organizzativo della società e soprattutto il sistema di leggi privilegi l'un tipo all'altro. A cosa faccio riferimento? Le imprese di tipo capitalistico, imprese sociali, benefit corporations, come gli americani recentemente le hanno chiamate, imprese cooperative e via discorrendo. Il fatto è che fino ad oggi questi altri tipi diversi da quelle capitalistiche è vero che esistono, ma sono discriminate. Qualcuno dice come discriminate, hanno vantaggi fiscali. Ecco, chi dice questo dimostra di non capire, di non sapere le cose, perché è vero esattamente il contrario. Allora, affermare la tesi della biodiversità economica vuol dire capire che la democrazia politica si regge a lungo se non è sostenuta dalla democrazia economica. Io ricordo sempre, quando mi capita di toccare questo argomento, la frase famosa di Albert Gallatin, che è stato uno dei firmatari della Declarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, diventato poi Ministro del Tesoro quando Jefferson venne nominato Presidente degli Stati Uniti. Del 1795, parlando al Congresso americano, ebbe a dire il principio democratico su cui questa nazione degli Stati Uniti è stata affondata che la democrazia politica non potrà reggersi a lungo se non è sostenuta dalla democrazia economica. Cioè, la democrazia politica non basta e tende a trasformarsi in oligarchia, e di questi tempi ne vediamo tanti esempi, in giro per il mondo e in Europa compresa. Perché? Perché la democrazia politica, se non è controbilanciata da un'autentica democrazia economica, il risultato è quello che vediamo. Gli oligopoli, i monopoli hanno un potere di influenza sulla sfera decisionale politica, che è quella che vediamo, eccetera. Ecco allora, queste tre tesi messe assieme ci permettono di capire quella che è una nuova strategia di attacco al problema. Ed è chiaro che da qui derivano delle implicazioni pratiche di grande momento. Primo, la cosiddetta discriminazione ecologica. E qui bisogna avere il coraggio di dirlo. nel mondo 70 milioni di persone, e noi siamo tra questi, noi italiani, inquinano, uso la parola in senso ampio, tanto quanto due miliardi e mezzo di persone. Cioè il problema ecologico è un problema soprattutto dell'Occidente avanzato. Non possiamo dire, è vero che oggi la Cina e l'India inquinano. Basta vedere ogni tanto le fotografie che i quotidiani ci forniscono. Però se noi ragioniamo in termini intertemporali e pensiamo da quando la distruzione ambientale è iniziata nel nostro mondo dopo la prima rivoluzione industriale, capiamo le conseguenze. Seconda implicazione pratica. Il problema dei cosiddetti rifugiati climatici. Il recente studio delle Nazioni Unite ha mostrato che nel 2050, se non si interverrà sin da ora, ci saranno nel mondo 250 milioni di migranti per ragioni climatiche. Chi sono? Quelli che vivono sui territori di costa. Il livello del mare si alza, il mare acqua salata invade, evidentemente la gente che lì ha abitato, a volte per secoli, deve prendere la via della migrazione. Dopo è fatica. Passate voi, ci stiamo arrabbattando di questi tempi per alcuni milioni. Quando questi diventassero 250 milioni, capite da soli. L'altra implicazione è quella di mettere il bando a quel fenomeno veramente scandaloso del land grabbing, si dice in inglese, cioè accapparamento delle terre. Doviamo sapere che in America Latina, ma soprattutto nell'Africa nera sub-sahariana, un terzo delle terre non appartengono più agli africani che li abitavano, perché sono prese con contratti a lunga durata di 99 anni da multinazionali straniere che prendono quelle terre per utilizzarle al fine di aumentare i livelli di produzione agricole e così via. Ed è chiaro che quelle popolazioni che fino a quel momento ottenevano almeno la sussistenza, non hanno altra scelta che prendere la via della fuga dall'estero e così via. Quindi vedete come il problema ambientale oggi assume connotati particolari. Non è solo più un bene di lusso per soddisfare le esigenze di chi sta bene, ma è un qualcosa di rilevante. Ecco perché per concludere, perché vedo che il tempo a me assegnato sta scadendo, si può capire perché quel documento, l'enciclica laudato si stia facendo parlare. Perché in maniera esplicita, senza giri di parole, ha messo come si suol dire il punto. Soprattutto sulla cosiddetta vexata questio della finanziarizzazione dell'economia. Questo è lo scandalo degli scandali. Perché oggi la finanziarizzazione dell'economia ammonta, a livello mondiale, a 700 mila miliardi di dollari. che è una cifra 12 volte superiore al PIL, PIL è il prodotto interno lordo di tutti i paesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la finanza non serve più a facilitare la produzione di reddito, quindi posti di lavoro, eccetera, eccetera. Ma è diventata autoreferenziale. E allora l'implicazione pratica è come fare per favorire la transizione ecologica. Perché i fondi ci sono, non credete a chi vi dice mancano le risorse. Di risorse ce ne sono fin troppe. Perché 700 mila miliardi sono tanti. Bisogna trovare il modo che è possibile per dirottare questi miliardi alla trasformazione. Oggi si parla non solo di economia verde, ma di economia blu. E l'economia blu, vedrete, sarà l'affare dei prossimi anni. Cioè si tratta di sfruttare le forze dell'oceano, le correnti sotterranee dell'oceano e certe alghe. Ma per far questo evidentemente ci vogliono investimenti. Chiudo dicendo allora parlare oggi in questi termini apre un orizzonte nuovo. Ovviamente ci sono come al solito i pessimisti e gli ottimisti, io appartengo agli assiconi. Ognuno ha i difetti che ha. Io sono nato ottimista e morirò ottimista. Perché intravedo che una via nuova si è cominciata a intraprendere esattamente in questi ultimi anni. Io vi ringrazio, ho terminato il mio tempo e quindi buon lavoro. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.